buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video questo è un bel pacchettone che mi è arrivato oggi vi faccio vedere subito una piccola anteprima che tanto non si capisce molto e qua c'è tutta la fattura l'ho preso da vabbè questo è il sito plinio niles che ovviamente un altro nome sulla ricevuta comunque adesso tiriamo fuori una cosa alla volta allora mi hanno mandato in omaggio questa e adesso ve l'apro e ve la faccio vedere eccola qui è una tovaglietta ovviamente io ho fatto l'ordine a plinio niles e questa era in omaggio poi aspettate no si è appiccicata aspettate ok guardate quanti pacchettini mamma mia allora iniziamo con questo piccolino adesso lo apro e ve lo faccio vedere ecco qui allora qui c'è un semi permanente che avevo ordinato il 115 che è un cover diciamo così di semi permanente ma non l'avano più e quindi io ho detto di mandarmi questo colore qui e me l'avano messo a parte comunque è il plinio galaxy 218 è un marrone con i brillantini e lo lasciamo qui poi poi abbiamo questo pacchettino qui ecco qui in quel pacchettino c'erano allora due disinfettanti che sono per uso mani e dime eccetera due da 100 ml e vi dico subito quanto li ho pagati visto che tanto ce l'ho sotto mano allora allora l'ho pagati 4 euro e 0,2 ciascuno quindi tutte e due 8 euro e 0,4 i disinfettanti questi due e poi ho preso questo che serve per pulire i pennelli e lo volevo provare questo che sentiamo che profumo mamma mia no so di acetone e invece questo qui l'ho pagato 4 euro e 0,2 anche questo e ne ho preso solo uno apposta per provare questi qui non li ho mai provati però siccome che li uso molto spesso ho deciso di prenderne due perché finiscono subito ecco qua ecco qua mettiamoli qui e buttiamo via tutta sta carta fluriball ok andiamo avanti uh mamma mia quanta roba prendiamo questo ok ok io ho già tirato tutti e due i pacchettoni che erano nel sacchetto per far prima allora io direi di aprire prima questo qui e poi successivamente andremo a vedere questo mega scatolone qua quindi adesso lo apro e vi faccio vedere cosa ce l'ho ok ce l'ho fatta prendi tutti e due andiamo a vedere prima questa scatolina qui e questi sono tutti i semipermanenti eh c'era la promozione ehm di natale ancora che praticamente se prendevi 10 semipermanenti ehm ce ne erano due il regalo allora io ne ho presi 20 e più 4 il regalo quindi 24 allora vi faccio vedere subito quello che ho preso ho preso questo il bianco 228 poi ho preso il 300 e scusate 230 che è questo colore qui un rozzo brillantinato poi ho preso il turchese il 188 poi ho preso questo colore prugna il numero 105 poi ho preso poi ho preso no questo non c'entra niente comunque è la base sigillante per il semipermanente nel 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 pacchetto scorso nella questo scorso ho preso quello piccolino e siccome che mi ci trovo molto bene ho preso anche quello grosso il barattolino più grosso quindi questo non c'entra con i colori e a parte poi ho preso il grigio chiaro che è il numero 108 poi allora ho preso il oh mamma non metta a fuoco ho preso il il giallo che è il 187 poi ho spento la luce si vede vediamo se va meglio ho preso questo blu che è il 136 poi ho preso questo verde pistacchio il 143 poi questo grigio topo sembra non so come descriverlo comunque il numero 124 e poi ho preso questo semi permanente il 116 aspettate che vado a controllare una cosa allora allora questo è il bianco semplice invece questo aspettate 228 è un verde acqua galaxy si è leggermente verdolino nell'etichetta che sembra bianco insomma però è un verde acqua galaxy infatti vedete che c'è una leggera ma non si vedrà mai comunque sembra un po' più scuro come bianco questo perché tende al verdolino e infatti anche a me sembrava un bianco ma mi devo ricredere comunque poi ho preso il color mandarino il 173 che questo è un colore fosforescente poi ho preso il 171 che infatti è un giallo fosforescente ho preso il 172 che è un rosa fluo poi poi il 190 è un glitter fuzia poi il 211 che è questo verde aspettate che riaccendo la luce ok ecco adesso si vede molto meglio è il 211 ok vedete vedete poi ho preso questo colore vediamo se c'è scritto il nome preciso aspettate si questo è un lampone scuro che è il numero 134 poi verde acceso quindi è un verde fosforescente che è il numero 174 poi questo azzurro che è il 197 e di preciso è il ceruleo chiaro poi ho preso questo questo rosa che è il numero 186 che è il rosa baby poi questo lilla il 195 poi questo colore prugna perlato il 199 poi questo colore qui che è un rosa il 196 che è albicocca e per finire il numero 200 il numero 200 che è indaco e questi sono tutti i semi permanenti che ho acquistato adesso andiamo ad aprire questo mega pacchettino ecco qui ho aperto anche questo pacchettino e anche di questo dei gel color c'era la promozione di sempre di Natale che era se prendevi 10 gel color c'era un costruttore in omaggio e anche di qui ho dovuto per forza approfittarne e ho preso 20 gel color così ho preso anche due costruttori perché sono ottimi e guardate quanto è grande il barattolone e te lo regalano alla fine 30 ml è tantissimo e vabbè allora ho preso il plino galaxy monofasico trasparente e dentro c'è come si dice dei cristalli di vetro poi e stesso anche questo e questo è sempre galaxy pro rosa adesso magari ve li apro e vi faccio vedere come sono dentro questo è quello rosa rosa aspettate che tolgo la luce ce la posso fare ok questo è quello rosa e ha le fibre di vetro adesso vi faccio vedere quello trasparente e questo è quello trasparente sempre con le fibre di vetro e questi due barattolini erano in omaggio quindi me l'hanno regalati e sono giganteschi e sono super felice perché così almeno per un bel po' di tempo sono anche a posto adesso andiamo a vedere il gel color questo non ci interessa allora ho preso il 271 poi che è un giallo fluo poi ho preso il 232 che è aspettate un bordeaux scuro poi ho preso questo arancione fluo che è il 270 poi sempre il fluo 272 è questo rosa poi questo che è il 246 che è un rosa vivo poi ho preso questo blu il 309 che è un blu marino poi ho preso il 207 che è un lilla perlato poi ho preso il 241 che è un verde acqua poi ho preso il 225 che è un grigio blu poi ho preso il 316 che è un verde militare poi il 313 che è un ciclamino perlato il 221 che è... che è... oddio aspettate che vi dico subito un rosa acceso ok un rosa acceso poi ho preso il 294 che è un colore lavanda il 332 è il rosa galaxy poi ho preso il 218 che è un rosa semplice poi ho preso il 224 che è un grigio agata poi ho preso il 224 che è un grigio agata poi ho preso il 224 che è un grigio agata il 244 che è un verde fosforescente aiuto il 217 che è un rosa salmone anche se l'etichetta non sembra poi un 212 che è il blu cobalto e per finire c'è il 226 che si chiama viola scuro semplicemente viola scuro e questi sono tutti i gel color e questi questi e questi oh mamma ok e niente ragazzi questo video è già abbastanza lungo questo era tutto il mio ordine vedete e poi vi farò anche un video dove vi farò vedere le tip con i corrispondenti colori magari ve li divido in due semipermanenti e gel color e niente ragazzi se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale se avete qualche domanda scrivetelo proprio qua sotto sarò felice di rispondermi nell'info box vi lascio il sito di Plinion Isles io questa azienda sono sempre molto soddisfatta sono sempre molto gentili e disponibile a rispondere non ho niente da dire e soprattutto sono molto veloci nella consegna e quindi niente sono felicissima di questo ordine noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao